Asia, conosci pillole di weekend? Come no? Benvenuti questo giorno per la prenazione degli Oscar qui all'Hotel Gardel, qui a Los Angeles, a Molfetta, scusate. La nomination agli Oscar è il miglior nonno protagonista, ovviamente non sappiamo ancora che dobbiamo essere vincitori, quindi io farei venire l'Avelina se il budget ce lo concede. Non avevamo questo gran fai di budget. The winner is per il miglior nonno protagonista, Nonno Giovanni! Questo premio che mi avete regalato ve lo offre a tutti voi, mi avete fatto un grandissimo piacere e mi voglio tanto bene e tanto carino. Comunque nonno ti volevamo dire che sei stato un nonno fantastico. Grazie, grazie, grazie a tutti. Vi ringrazio che mi avete sempre seguito e io vi ho contraccambiato pensando sempre a voi. L'atmosfera si sta scaldando e noi qua siamo a ballare l'impo. Andiamo a ballare, andiamo! Come si fa questo ballo? Questo è il tranco, si fa dentro e fuori. Con la gamba? Con la gamba. Tassica! La roma, non manca! Non faccio mai il conto! Dove mi hai portato? Aiuta! Ma voi del nord non mi vergognate a queste borsa! Borsa! Un saluto a Pino dell'Oretto dell'Ideo! Anche Giori Morti! Un saluto a Pino... A Pino Moretto dell'Ideo! Giori morti! Fate un po' di fasi ghiacciato! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.